I leader di oltre 100 paesi, che rappresentano l'85% delle foreste mondiali, si impegnano a porre fine alla deforestazione entro il 2030, mettendo sul tavolo impegni finanziari per un ammontare di 19,2 miliardi di euro. L'accordo è il primo risultato concreto emerso dalla COP26 in programma a Glasgow fino al 12 novembre prossimo. L'Unione Europea si è impegnata per un miliardo, di cui 250 milioni da destinare al bacino del Congo, secondo polmone della terra dopo l'Amazzonia, mentre il presidente americano Joe Biden ha annunciato che chiederà al Congresso di stanziare 9 miliardi entro il 2030. Tra i firmatari dell'accordo ci sono anche Canada, Brasile, sotto attacco per aver trascurato negli ultimi anni l'Amazzonia, Russia, Cina, Indonesia, Repubblica Democratica del Congo, Stati Uniti e Regno Unito.